Non è cambiato, granché. Del resto che possono fare pochi anni, al cospetto dei millenni. C'è una cosa che non ti ho detto. Credo che Amanda non sia morta qua giù. E questo sarebbe il momento della verità. Forse è questo il segreto. Scavare nel passato, per comprenderlo. Io sono un ingegnere, Lara. Io costruisco il futuro. Non scavo nel passato. Lo farai. Prima o poi tocca a tutti. Lara! Scendi subito giù, fannullona! Jason dice che stiamo per sfondare. Un minuto, Amanda! Abbiamo dei dubbi strutturali. Vuoi portare qui quelle chiappe?